C'è Lombardino! Oddio! Come? 10 secondi? Vabbè, un trollerino! Fai tu l'intro, mi sono rotto il cazzo! Bella a tutti ragazzi, qui Dolph! Io Kyle! E siamo su Battleblock Theater! Di nuovo su questa serie in cui facciamo vedere... Facciamo! In cui facciamo vedere i livelli creati dai giocatori! Sì, e abbiamo deciso di prendere questo oggi! Prison Escape 2! Kyle sa parlare! Scarso 9203... Ovviamente modalità normale perché la folle arriverà quando ne avremo 30 anni minimo! Giusto! Bene! Andiamo? Ovviamente sono fatte con fragole, purtroppo avremo le nostre gemme! Ma perché sto parlando così? Vabbè, veniamo da tanti... Ad un checkpoint! Ok, calmi, dove è il troll? Quindi! Oh! Aspetta! Oddio! Questa è l'uscita? Sì! Non ci arriveremo mai! Oh, che sta succedendo? Stiamo laggando! Oh, che fai? No, volevo provare la bombetta! Ah, ti devo lanciare! Mi devi lanciare! Cavento! Buona! Però se non abbia molto tempo si rifà! Attenzione! Però ci arriva! Mamma mia signora! Però non abbiamo le nostre gemme! Oddio, oddio, oddio! Ci seguono! Cos'è sta roba? Aia! Aiuto! Bella, bella! Ci siamo! Ok! E come ci arriviamo lì sotto? Ah! Penso che abbiamo preso tutto! Credo! Ma ho preso qualcosa! Chi sei tu? Chi sono? Ragazzi! Chi sono? Lasciate like se non conoscete Adolf! Esattamente! Io ho il numero uno! Beh, per ora sembra facile da... Per ora? No, volevamo l'hardcore! Oh, la torta! Ah, è finito il livello! Anche se là c'era un blocco! Stiamo scherzando! C'era un blocco! Stiamo scherzando! È durato tre secondi sto livello! Ah, ok! Eh, va bene! I love you! Ma che cazzo! Ok! È lo stesso livello di prima! Solo che siamo partiti da sopra! La mente è geniale di quello che ha creato sto mondo! È veramente ristretta! Perché? Va bene! Che cosa stiamo facendo? Non lo so! Che scopo ha la nostra vita? Neee! Non lo so, si diverte! Ragazzi, dovevamo prima vedere questa mappa! Vedere di cambiare mondo! Madonna! Che cazzo è? Cioè, è un buon farm per le gemme, però! Che gemme? Non le abbiamo! Fragolone! Non abbiamo fragole! Vedi? Sono sempre le stesse! E basta! Beh, siamo qua l'acqua... Neee! Fragolone! Non ci credo! Se questo è il 2, non voglio vedere l'1! Io proporrei un livello in cui chi ha creato questo mondo vada a casa! Esatto! Torna, vero! Anche abbastanza velocemente, direi sì! Ok, almeno non abbiamo le... Ok, calmi, calmi! Questo è serio! Non so cosa ha attivato! Ok, promo che arriva l'uscita! Ok, buona! Grande trollone Dolph! E quindi? Noi facciamo la storia in modalità folle! Cioè, non lo so! Eh, va bene, ragazzi! Dovrebbe essere una sfida! A chi lo finisce prima? Siamo a 5 minuti di video! Non siamo morti! Ok, ok, dai! Forse è seria! Bella! Smettila di crederci! No, no, non abbiamo preso tutto! Non abbiamo preso tutto! Io non ho preso tutto! Sì, c'è qualcosa di nascosto! Forse è qui sopra! Zero! Che cazzo dici? Abbiamo preso tutto! Ma che cazzo l'aveva visto? Cioè, tu seriamente ti aspetti un level design complesso da questo tipo di livelli? Da quello che l'ha creato, più che altro! Onesto! Madonna! Nuovo livello? Che cazzo! Oddio, oddio! Questi hanno... No, no! Io odio i gatti! Hanno i fragolini! No, questi mi pestano, Dolph! No, è sempre noi che dobbiamo pestare! Aspetta, ho un'idea! Eh! Questa mi piace! Vabbè, tu ce la vivi già! No! Come è sto di qua? Attenzione! Arriva! All'eso granato! Oh, c'è la torta qua sopra! Come cazzo ci arrivo? Aiuto! Ma perché non muoiono? C'è la torta! Non ce la farò male! Boom! Ciao! Sì, fatto! Aspetta, la torta! Ok, vai! Presa? Sì! Beh, questo era discreto, dai! Sei scelte! Sembra non abbiamo avuto il tempo! Ciao belli, si rifà! Sette su dieci! No, qua il livello, eh... Sì, ciao! Qua il tempo conta due minuti e mezzo minimo! Il boss! Il boss! Il boss! Oh, il bo... Vai! Non ci credo! È uguale al livello di... Guarda il piedino! Sono bloccato! È uguale al livello di... Cambio! Cioè, sul serio, questo è il boss! Non vi dire che è finito! Non so, ragazzi, se voi vi divertite, vi dire... Noi che abbiamo... Cosa! Ragazzi! Oh, questi dovrebbero essere più difficili del solito! Sì, è molto difficile, infatti... Già dalla preview si nuta! Madonna! Sì, positivo! È uguale a quello! Oddio, oddio, no, no! Sinceramente, se devo essere onesto, il mio cervello... Queste, 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 queste fanno bene! Sì, va... Cosa? Che è successo? Quindi... L'uscita! Lo so io! Qua! No! Oddio! Che cazzo! Dice... Eh, va boh! Dice! Hai visto che fa male pure a te? Diteci nei commenti se preferite le torte o le fragole, o le torte o le fragole! O le gemme alle torte! O le gemme alle torte! Oh, eh no! È una volta che... Non l'ho fatto apposta! Devo fare più di due passi! Vai! Serio, è finito! Vai! È finito! O che sta scritto? For... For... Ah! Qual... The... For the end! The end! For a... Casa! Casa! Che cazzo! Oddio, aspetta! I love you, guys! And thanks everyone! Ma sei un nabo! Ma fai schif... Ma fai schifal cazzo! C'è non perdire! Oddio! Come? 10 secondi! Vabbè, un trollerino! No, no, aspetta! Questa... La dobbiamo capire! Un attimo! No, non è impossibile! Ancora c'è un checkpoint! È fattibile! Dove lo vedi il checkpoint? Si può arrivare! Secondo me in 10 secondi si può arrivare! La sfida del video? La sfida del video! Ah! Ah, di qua si sale! Sì, ciao! Ciao, Billo! È finito il tempo! Non si può fare! Ragazzi, mettete like se volete che Adolf dia un pugno al creatore di Stama! Aspetta, trolliamo! Con 5 secondi? Forse è fattibile! Per niente! Sì, fidati! Secondo me... Eravamo arrivati ai punti affermativi! Secondo me, lui non ha pensato che il livello possa essere fattibile mentre l'ha realizzato! Intanto ne ha fatti proprio scemi, certi! Sì, e poi si salta sulla S... E ciao, Belli! Sì, e poi... Aspetta un attimo! Primi Y, non voglio vedere se esiste un modo per arrivare all'uscita! No! Aspetta, c'è un portale! Ah, sta qua! Sì, e poi... Aspetta un attimo! Aspetta, c'è un portale! Ah, sta qua! Stai scherzando! Bella, ragazzi! Io direi che potremo salutarci e vederci al prossimo video! È stata un'esperienza unica e... Non ci credo, raga! Un sparore di chi va! Che test di cazzo che si ha! Molte emozioni sono state provate durante il corso di questo video! Andiamocene! 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 Aspetta, che bella! Dobbiamo far vedere al nostro pubblico che noi diamo una stella! Mezza stella! Andiamo a casa! Bella a tutti, ragazzi! Noi ci vediamo alla prossima! Da Kyle è tutto, da Dolph è tutto e... Bella! Ciao! 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 Grazie a tutti.